Disaggi al presidio ospedaliero di Piedimonte Matese, così come abbiamo riportato qualche giorno fa noi di Caserta Sera. Disaggi relativi agli organici sempre più ridotti. Con l'avvicinarsi del periodo estivo, la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente per un territorio come l'Alto Casertano, già lontano dalle grandi strutture sanitarie di emergenza. Il pronto soccorso è attualmente carente di medici e senza un primario di ruolo, ma come stanno davvero le cose? A spiegarcelo Raffaele Ciaramella della CISL. Ciaramella, 7 reparti su 9 senza primario di ruolo, ma è una cosa possibile questa? No, questo è un grosso problema già evidenziato precedentemente con i vari commissari che si sono succeduti in questi ultimi anni. Ci aspettiamo che adesso con il nuovo piano sanitario venga colmato questa grave carenza. Parliamo un attimino della situazione del pronto soccorso. Saranno 4 i medici proprio per l'unità medica spostata ad Aversa, quindi anche lì una situazione abbastanza problematica per un reparto poi di emergenza. Assolutamente sì, siamo preoccupati per questo spostamento, però abbiamo avuto anche delle ampie rassicurazioni, essendo praticamente un ordine di servizio urgente, che regolato da contratto, prevede la durata di 30 giorni. Dopo la dottoressa dovrà rientrare presso la sua sede che è Piedimonte Matese, altrimenti effettivamente si mette a rischio quella che è l'assistenza. In vista anche delle ferie estive, quindi la situazione sarà ancora più drammatica, come si pensa di tamponare il problema? Il problema ci sarà, logicamente questo dovrà prevedere delle disposizioni da parte della direzione sanitaria. Noi già abbiamo fatto presente che eventualmente bisognerà fare delle riduzioni di posti letto per poter garantire sia le ferie sia l'assistenza, logicamente privilegiando l'emergenza. E dalla Sanità è tutto, Mariangela Marotta per casertasera.it